Sindaco Festa, passato il maltempo, restano i danni, attualmente qual è la situazione in città? Da stamattina siamo al lavoro, dopo aver effettuato sopralluoghi ieri sera, siamo al lavoro per risolvere le situazioni un po' più critiche. Tuffarole via Tedesco, Isca Arciprete, Parco Aquilone a Borgo Ferrovia, sono stati i primi interventi effettuati a questo momento. Nel frattempo monitoriamo la situazione e devo dire che anche la scelta di aver lasciato le scuole aperte mi sembra essere stata quella giusta. Per il futuro, Sindaco, che tipi di interventi o soluzioni è possibile immaginare, atteso che bisognerà muoversi di sistema, evidentemente, perché i fondi sappiamo non esserci per mettere in sicurezza tutto il territorio? Guardi, abbiamo ereditato una situazione problematica che va avanti almeno da 20-30 anni. È oggettiva l'esigenza di dover intervenire. Stiamo provando a capire in quali punti e in quali tratti sia possibile, anche con investimenti comunali, per altre zone. Sicuramente la situazione è molto più complicata, ma c'è la volontà di questa amministrazione di non rimandare più, di non peggiorare ulteriormente la condizione che vivono alcuni nostri concittadini, invece di intervenire in maniera efficace. È evidente che il Comune, 20 anni fa, aveva l'ufficio di manutenzione. Da quando siamo passati da 550 dipendenti a 250, purtroppo, riusciamo quasi più a garantire l'ordinario, all'anagrafe, immaginarsi se riusciamo ad avere personale per la manutenzione. Quello è un altro mondo. Il nostro mondo è quello fatto di difficoltà, di problemi, che ogni giorno il Sindaco e l'amministrazione si trovano a dover affrontare e superare. Lo stiamo facendo. Abbiamo anche organizzato gli uffici comunali con l'8 settembre, quindi con il bilancio abbiamo anche messo fondi finalmente, perché ricordo che l'ho sempre di Sesto, io ho trovato un bilancio non di lacrime e sangue, solo sangue, perché anche le lacrime erano terminate e stiamo provvedendo con un grande impegno cuoridiano da parte della mia giunta e del Consiglio, che io ringrazio per il grande lavoro, e stiamo trovando anche soluzioni importanti.